ragazzi io sono abbastanza senza parole potrei farvi vedere lo screen che vi voglio far vedere ora e chiudere questo video però in realtà penso che meriti di essere un attimino approfondito questo discorso e ho chiamato questo video credo come smettere di perdere soldi l'unico vero metodo perché ragazzi l'unico vero metodo per perdere soldi ve lo dico subito spoiler è cambiare perché quello che vi sto per far vedere vi dimostra come siamo messi veramente in una situazione preoccupante in questo paese mi occupo di questo paese ragazzi perché sono italiano sono patriota io sono abbastanza innamorato della mia terra sono marchigiano di origine adoro le marche e veramente vedere questi numeri vedere questi dati mi manda completamente in bestia ora ne discutiamo però lasciami un like lasciami un like perché veramente sto cercando di fare di tutto per fare della sana divulgazione di argomenti di cui non parla praticamente quasi nessuno perché ragazzi quasi nessuno parla di sta roba e vi fa vedere perché so che sono cose che fanno incazzare perché se io vi sbatto in faccia ragazzi delle cose è normale che voi reagite dicendo ah ma sei aggressivo ah ma perché fai così ah ma perché perché ti faccio sentire un idiota lo so lo so ma il mio obiettivo non è farti sentire un idiota il mio obiettivo è farti capire che probabilmente stai sbagliando qualcosa adesso non so in che tu che mi stai guardando esattamente visto che comunque per fortuna qualche decina di migliaia di visualizzazioni alla settimana la facciamo quindi non so io tu che guardi video in che situazione sei ma le statistiche mi raccontano che la maggioranza è in questo stato ragazzi è in questo stato il 60% degli italiani dichiara meno di 1000 euro lordi al mese ogni italiano spende oltre 2000 euro all'anno all'otto lotterie gratte vinci di stato qua andiamo avanti questo almeno è quanto dichiarano probabilmente vista la quantità di tasse che si pagano saranno cifre più basse rispetto a quello che sono reali però abbiamo visto dati ufficiali che uno stipendio medio italiano in questo momento è al 31esimo posto al mondo rispetto a tutto il resto del pianeta quindi siamo oltre oltre la top 30 siamo in top 40 per quanto riguarda la quantità di salari ok medi percepiti da un italiano medio ok quindi dichiara meno di 1000 euro all'anno lordi e abbiamo 2000 euro e scusate meno di 1000 euro al mese lordi e abbiamo 2000 euro all'anno spesi in gratte vinci ma adesso aspetta perché ora approfondiamo un attimo approfondiamo un attimo secondo i dati del libro blu dell'agenzia delle logane del monopoli nel 2022 il nostro paese ha toccato il record assoluto nella spesa per il gioco d'azzardo che si attesta a 136 miliardi di euro contro i 111 del 2021 quindi un aumento di 30 erotti miliardi 35 34 miliardi in più in un anno complimenti a questi vanno aggiunti altri 20 miliardi che non sono tracciati perché sono in mano alla criminalità lo scorso anno la spesa media per il gioco togliendo quindi quelli che non si sanno è stata di 2320 euro a cittadino ok e poi questo è quello che accade ragazzi poi questi qua sono quelli che stufandosi magari di giocare online magari finiscono anche nel mondo delle cripte quindi comprano il coniglio di turno si sfrasciano si sfrasciano si sfrasciano si sfrasciano non so come dirlo si si ok e poi finisce che 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 ragazzi cioè ma ma dove vogliamo andare cioè io questa è la risposta che darei a questo tipo di sondaggio ma dove vogliamo andare cioè ma ci rendiamo conto che il 60% degli italiani dichiara meno di 1000 euro al mese cioè già solo di questo per me si potrebbe parlare per un mese fare un'analisi approfondita di come cavolo sia possibile intanto che in un paese dove un affitto praticamente non costa meno di 500, 600, 700 euro al mese stiamo parlando di un affitto non in centro perché se vai a Milano con 700 euro al mese ti prendi una stanza ok e 1000 euro al mese boh vabbè vabbè praticamente l'affitto è il 70% l'80% di uno stipendio di di un di quanto guadagna un italiano ok ma in più spende 2000 euro all'anno in lotto lotterie gratte vinci di stato poi abbiamo poi abbiamo cosa da aggiungere tabacchi alcol e chi più ne ha più ne metta ok allora ragazzi l'unico modo di smettere di perdere soldi nel mondo delle cripto ma nel mondo della finanza in generale nel mondo del business nel mondo nel mondo in generale è cambiare mentalità ok ragazzi perché se questi sono i dati se questo è il numero e abbiamo visto come il 50 e rotti per cento delle persone che hanno votato a sondaggio sono diverse centinaia hanno meno di 10.000 euro da parte quindi abbiamo un dato che ci dice che abbiamo meno di 10.000 euro da parte guadagniamo 1000 euro al mese abbiamo 2000 euro all'anno di spese solamente ingrati e vinci e non abbiamo praticamente la possibilità di parlarne in questo paese perché se lo fai vieni considerato aggressivo se provi a vendere un servizio in cui fai formazione per le cripto vieni considerato guru se provi a fare un po' di divulgazione di sana divulgazione dicono che diventi un fuffa guru un profeta del non so che cosa e sono lì con i loro 100 euro sul conto corrente a criticare allora poi mi dicono che sono aggressivo io cerco di stare calmo ragazzi veramente vedete come sono calmo cerco di stare molto calmo io ho 31 anni e ragazzi non è non è io non so come commentare queste cose non so in che altro modo affrontare questa situazione se non dirvi è il momento che vi svegliate ok allora volete le coccole cioè volete che vi racconti che va bene così volete che vi dica che non è vero che un italiano medio è povero e oltre a essere povero butta pure i suoi soldi incavolate perché non ha nessun tipo di educazione finanziaria e che l'unico modo per smettere di perdere soldi smettere di essere poveri è quella di farsi un'educazione finanziaria che l'educazione finanziaria ragazzi ve la potete fare nel mondo delle cripto nel mondo delle azioni ve la potete fare semplicemente studiando come investire con un piano l'accumulo semplicemente capendo come aumentare le vostre entrate come staccare il tempo dal denaro cioè io più che cercare di spiegarvi queste cose qui gratuitamente su questo canale e di offrire dei servizi che vi possono aiutare io sinceramente non so che altro dirvi ok e poi mi dicono sei aggressivo ma io non posso non essere aggressivo ragazzi ma questi dati sono gravissimi sono gravissimi ma vi rendete conto ma io 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 non so non so veramente come commentarli state lì a giocare il gratto e vinci il 60% degli italiani spende 2000 erotti euro all'anno in gioco boh ragazzi fatene quello che volete decidete voi come affrontare questi dati ma io non so in che altro modo affrontare questo tipo di argomenti grazie a tutti grazie a tutti